Barbara Saba, direttore generale della fondazione Johnson & Johnson, oggi in visita per la prima volta a San Patrignano. Quale emozione le ha suscitato questa esperienza e cosa le lascia? Io sono della generazione che ancora ricorda Vincenzo Muccioli, perché l'ho visto parlare, ho seguito negli anni le storie che lui raccontava e ne sono sempre stata molto affascinata. Quindi per me è un po' uno scoprire un mondo che immaginavo e immaginavo così, perché l'avevo visto attraverso gli occhi di quest'uomo così visionario e quindi una visione di un mondo positivo dove si fanno delle cose buone, dove le persone ti incontrano, salutano, dove c'è una serenità che magari è raggiunta con fatica ma che penso che sia la sensazione più bella che uno si porta via quando viene a San Patrignano. La fondazione Johnson & Johnson porta avanti diversi progetti nel campo della prevenzione, della salute, anche dell'HIV. Un po' gli stessi temi e le stesse preoccupazioni che si affrontano qui a San Patrignano. Sì, assolutamente. Noi siamo una fondazione delle aziende Johnson & Johnson in Italia e cerchiamo di operare su questo territorio solo in Italia nei temi che si avvicinano a quelli che sono i temi centrali delle nostre aziende, che sono quelli della salute e quelli del welfare in senso più generale. Quindi facciamo moltissimo lavoro sulla prevenzione sia di malattie che sull'informazione e l'educazione dei ragazzi. Tutti sappiamo che adesso è molto importante informarli ad età ancora più giovane di quello che era in passato sull'HIV, l'AIDS ma anche sul cancro, sui rischi del fumo, su tante cose. Per cui crediamo che le nuove generazioni debbano essere in qualche modo aiutate a comprendere questo mondo ed essere avvisate di quello che potrebbe succedere.